e sport a tu per tu per saperne di più torniamo in onda dai nostri studi di via garibaldi 294 torniamo con a tu per tu la prima puntata del 2023 e parliamo con un nostro caro amico il professore massimo scialpi bentornato buongiorno bentrovati grazie parliamo del suo nuovo libro la crepa che vi mostro subito tra le pieghe dell'esistere intanto ve lo mostro vi mostro la copertina partirei subito dal titolo professor scialpi perché chiaramente la crepa la prima cosa che fa venire in mente almeno a me personalmente è una terra molto secca quindi arida questa crepa però può anche avere in fondo una luce e se ci facciamo caso anche in una terra molto secca può nascere un fiore o un filo d'erba questo libro è diviso in due parti la prima diciamo più tecnica la seconda più discorsiva io l'ho letto non ho fatto in tempo a termine l'ho però l'ho letto e quindi vi posso dire che è un piacere perché potremmo trovare all'interno di questo volume anche una parte di noi tutto tutto questo preambolo affinché le ci spieghi il titolo la crepa e collegandoci un po anche all'impressione che io ho avuto da lettore se è corretta o no è corretta è corretta avevamo eravamo molto indecisi con i miei cari e care colleghi e colleghi per quanto riguarda il titolo del libro perché voleva proprio stare a significare questo in qualche modo simbolicamente avremmo avuto bisogno di pensare a un elemento che in qualche modo è un punto di rottura un elemento di discontinuità che è quello che ritroviamo poi nella nostra vita continuamente e che rappresenta però una fessura dalla quale come dice cohen il cantautore da lì entra la luce ogni cosa una crepa e da lì entra la luce però da lì entra la luce quindi l'idea è questa qui provare a pensare alle nostre crepe alle crepe della nostra vita e ce ne sono tante anche se facciamo di tutto per nasconderle durante la nostra esistenza le crepe della nostra vita sono degli invarianti strutturali dalle quali bisogna partire per ritrovare un po il senso di noi la nostra esistenza è fondata un po sulla sofferenza certo basti pensare che quando un bimbo nasce la mamma per darlo alla luce soffre tantissimo sicuramente quindi la sofferenza può dare anche una vita quindi nella sofferenza c'è anche la positività nella sofferenza elaborata nella capacità nostra di soffrire siamo sempre capaci nella non sempre non sempre perché passiamo qualcuno dice che passiamo la nostra esistenza a coprire i buchi della nostra vita le voraggini e volte della nostra vita o cerchiamo sempre quello che abbiamo avuto in eccesso oppure quello che non abbiamo avuto noi passiamo la nostra esistenza a fare i conti con queste situazioni che ci hanno un po dato l'imprinting all'inizio no e quindi questo succede proprio perché in qualche modo poi il nostro io la nostra personalità ha bisogno di costruire di creare il puzzle cioè la nostra vita è un costrutto fondamentalmente noi facciamo facciamo una fatica immane cioè la sofferenza dell'uomo è talmente insita nell'uomo che la cosa più importante che riusciamo a fare qual è è quella di co costruire continuamente creare questo puzzle questa organizzazione della personalità che a volte nasconde le insicurezze lo facciamo proprio per questo perché abbiamo bisogno di nascondere a noi stessi le insicurezze i momenti di solitudine ecco perché davanti alla sofferenza a volte ci troviamo soli no e la sofferenza spesso è legata al momento di solitudine al momento di star soli con se stessi e non sempre reggiamo questa questa difficoltà questa dimensione che sicuramente qualcosa che ci opprime a volte no dipende anche dalla sensibilità che una persona dipende dalla sensibilità sì o dalla quantità di sofferenza che ha accumulato nel corso degli anni sì io dico che la sofferenza ne parlavamo prima un attimo no prendendo un buon caffè al bar qui vicino e la sofferenza in qualche modo ehm c'è un momento in cui la sofferenza grida aiuto io è paradossale ma è così io penso che tutti abbiamo della bella una bella sofferenza interna a noi eh che si dipana in tante sfumature no affettive sociali psicologiche mentali fisiche no perché no però questo eh e diciamo così si dipana in tanti costrutti come dicevo prima che sono parziali parcellizzati e poi c'è un momento in cui quando non riusciamo a tirarci fuori da queste situazioni la sofferenza diventa a volte insopportabile quindi diventa una sofferenza che ha bisogno di venire fuori in tutto il suo malessere in tutto il suo grido d'allarme le domande sono tantissime quindi adesso ne faccio un'altra poi ne faccio anch'io tantissime su questo poi andiamo un attimo nello specifico benissimo mi ricollego a quanto detto finora eh nella quantità di sofferenza che una persona ha quindi la sua sensibilità tutto il suo costrutto può nel percorso di vita nel momento in cui non è nel momento in cui non è in grado di risolvere da solo la problematica la sofferenza può una persona esterna infondere fiducia e corroborare un po e quindi far uscire una persona dal suo stato di melanconia depressione sofferenza certo al di là che sia o meno una persona quindi psicologo psicoanalista psichiatra qualsiasi ruolo possa ma anche una persona un amico una persona io credo che per occuparsi per avvicinarsi un amore certo per avere la possibilità di essere terapeutici pur non essendo psicoterapeuti nei confronti di una persona c'è bisogno di una competenza relazionale questo è importante io credo che innata se fossimo no si costruisce si organizza ci si forma a fare questo io credo che le persone tutte hanno uno psicologo dentro di sé sicuramente in erba però cioè nel senso in potenza potenzialmente abbiamo le risorse per poterlo fare e però questa cosa va come dire esercitata esercitata perché è importante che non per niente le le persone che riescono ad avere delle sane relazioni hanno una grande possibilità di uscirne da situazioni così gravi no perché hanno persone con cui sfogarsi hanno persone con cui condividere dei momenti belli nella vita di essere feeling delle passioni ci deve essere un grande feeling però l'altro davanti alla sofferenza di un amico deve avere veramente una grande competenza ecco perché a volte io dico che quando non sia un amico bisogna andarselo a trovare dappertutto insomma in qualche modo naturalmente altro è fare psicoterapia fare psicanale sta parlando sempre con un psicanalista quindi tenga presente che io ho diciamo dopo tanti anni di esperienza e fatto questa meravigliosa scoperta e cioè che la sofferenza dell'altro quando grida aiuto bisogna saperla ascoltare fino in fondo e l'ascolto il famoso ascolto attivo no che in psicanalisi si produce in psicoterapia cioè la persona ti dice anche quello che mai si sarebbe sognato di dirti quando viene da te quindi si apre e si apre abbassa le difese e ci vuole tanto tempo per poterlo fare perché non l'ha fatto nemmeno con la persona più cara che le sta vicino e quindi farlo con un estraneo non è la cosa più facile del mondo però il fatto che sia uno specialista il fatto che sia un competente nella relazione d'aiuto di solito dovrebbe metterti a tuo agio allora andiamo nello specifico di questo di questo libro la crepa che vi mostro nuovamente tra le pieghe dell'esistere andiamo nello specifico perché viene trattato il tema come abbiamo un po anticipato prima anche della depressione ad esempio che purtroppo è una malattia grave grave mi corregga se sbaglio sta anche un po aumentando rispetto agli anni passati poi ci dirà quali sono o meno le cause e in questo libro si tenta io parlo di tentativo perché poi è chiaro ogni persona che legge deve recepire ciò che legge si fa tutto un percorso per capire e per cercare di combattere tra virgolette anche le difficoltà dell'esistenza di oggi ricollegandoci anche agli ultimi anni che il covid ha creato nella mente delle persone tantissimi problemi ha fatto emergere problematiche anche latenti che forse prima non erano mai emerse all'obiettivo di questo libro qual è e per quanto riguarda il tema della depressione uno uno dei fattori è la separazione della persona cara quindi un amore lei spiega anche attraverso famosi studiosi del tempo i motivi per il quale si piange un morto ma se si piange il morto realmente o si piange il nostro essere stati abbandonati da quella persona e poi perché si focalizza l'attenzione sul dolore specialmente affiancandolo all'amore quando poi invece anche l'amore può essere la cura per un dolore è un po il cane che si morde la coda no sicuramente sì ho fatto delle domande tante domande molto sfaccettate però però questo indica io mi chiedo sempre poi il senso no del del porci delle domande questo è un libro fatto di domande fondamentalmente è un libro che va avanti col metodo filosofico ovvero la domanda è il senso della vita il senso delle cose e quello c'è l'idea qual è dunque parto da quello che mi ha colpito la slatentizzazione sì ovvero la scopertura la non copertura che abbiamo avuto in questo periodo di covid e che sta avvenendo adesso molto forte in evidenza con quello che si chiama il disturbo post traumatico da stress ovvero le persone in questo momento stanno avendo grossi problemi no le persone che vengono adesso a chiederci aiuto ci chiedono aiuto proprio perché hanno colto hanno percepito sentono emergere quelle che sono state le difficoltà vissute in due anni di tra virgolette di star chiusi in casa in qualche modo o comunque stare lontani dalle relazioni no e comunque stare lontani dalle cose che ci hanno riempito una vita fino a quel momento e lì c'è c'è bisogno proprio di essere come dire esperti dell'improvvisazione no c'è che cosa in fondo la vita dal punto di vista della crescita quando è che noi maturiamo una certa crescita quando noi siamo capaci di affrontare solitamente gli imprevisti della vita in modo adeguato equilibrato che non significa non andare in crisi significa porsi nei confronti della crisi in maniera critica in maniera costruttiva con un certo livello di pazienza è difficilissimo gli indiani d'america nello specifico toro seduto disse quando accetterai la morte sarai pronto per vivere sicuramente campanella dalle parti nostre dice speriamo che la morte ci colga da vivi no può essere la morte quindi diciamo un po il burattinaio della nostra vita indirettamente cioè noi sappiamo che dovremo prima o poi spegnerci e tutte le nostre paure nascono inconsciamenti della morte c'è anche la stessa depressione si perdere qualcosa un affetto caro ma anche il nostro morire nostro invecchiare che poi la morte l'invecchiamento un po no nella mente l'anticamera della fine di un percorso certo può essere il burattinaio della nostra vita più della vita stessa dunque freud è di cui libro poi esprime diciamo così una documentazione riferita ai primi tempi le ha letto qualcosa no senza i primi tempi della psicanalisi dove sono citati nel libro una parte del libro è un po per addetti ai lavori ma è un modo per avere dei riferimenti chiari per un viatico no nei confronti della lettura del testo quindi freud parlava di eros e thanatos freud a un certo punto tra le tue tra le sue grandissime e geniali intuizioni tirò fuori l'istinto di vita e l'istinto di morte no noi siamo ossessionati dal thanatos dall'istinto di morte siamo ossessionati dal thanatos e sicuramente ogni dolore ogni sofferenza anche parcellizzata limitata temporanea nel tempo è una dimensione che ci coglie un pochino sempre impreparati ma che ci coglie di sorpresa e che ci fa vedere lo spettro della disperazione lo spettro della morte quindi non siamo mai pronti anche se noi cerchiamo di elaborare assolutamente assolutamente noi elaboriamo qualunque cosa ci sono situazioni meravigliose esistenziali fondamentali che hanno a che fare con la fede la fede la fede ha una chiaramente una non una chiave di volta ma una chiave di lettura di quello che può essere nella nostra vita per accettare e quindi per l'accettazione ma anche per credere che esiste una una speranza quella nel libro che amo il già nell'ancora no agostino di pona citato dal professor foglio bonda che il mio mentore il mio maestro di psicoanalisi dice proprio che c'è la speranza che noi dobbiamo avere anche nei confronti di chi soffre è quella che dobbiamo avere anche al posto suo a volte cioè cosa fa lo psicoanalista quando una persona si si medesima ma deve capire subito che la speranza che l'altro ancora non ha di uscirne da una situazione così dolorosa sofferente depressogena la deve avere lui al posto del paziente perché altrimenti diventa veramente un problema se io non ho la capacità di credere che tu ne esci che tu stai per uscirne dal problema che tu hai le potenzialità per uscirne non sono capace neanche di fare una diagnosi una buona diagnosi un percorso che si fa in due è un percorso che si fa sempre in due anche se io dico sempre che la persona decide di cominciarlo poi insieme si continua e insieme si decide di finirlo di terminarlo di portarlo a conclusione ma è la persona che deve decidere di chiedere un aiuto competente specialistico ah mi sono segnato una delle delle frasi presenti nel libro quando sono debole è allora che sono forte qual è il senso è un po' dicotomica no è una frase di san paolo che cita una frase di san paolo che viene citata da marco testi il professore critico letterario che ha curato la prefazione del libro di cui io sono onorato perché è un privilegio essere amico suo e collega in questo momento si si cita quando sono debole lì che sono forte e l'idea è l'idea è che proprio nella mia debolezza posso trovare ritorniamo alla crepa posso trovare la forza di venirne fuori perché un po si fa riferimento io faccio per comparazione riferimento al alla tecnica dei vasi giapponesi chi la tecnica del kintsugi ne ha sentito parlare no cioè quando si rompe un vaso importante in giappone quel vaso comincia secondo i giapponesi a raccontare una storia perché si sta è un vaso fatto di esperienze quindi quel vaso deve essere rimesso a nuovo non buttato ma deve essere recuperato con metalli preziosi oro e platino sarà mai come prima non sarà come prima perché noi dopo un percorso del genere siamo altro non siamo più come prima voler tornare a come eravamo prima e anacronistico perché noi si va sempre avanti e la sofferenza ci spinge in avanti perché la sofferenza ti mette davanti a che cosa al fatto che deve cambiare qualcosa perché quello che è stato a livello di costrutto di pensiero emotivo relazionale affettivo non è più quello che verrà non c'è ancora quindi cosa conviene fare la regola d'oro dell'esistenza vivere il presente fino in fondo cercando di capire che cosa mi vuol dire e quello è un processo di sofferenza nella sofferenza è delicato momento molto delicato nella vita di una persona mi corregga se sbaglio almeno personalmente pensare troppo al passato non mi piace nel senso il passato è passato ok nel bene e nel male si è bello poi ricordare i ricordi piacevoli anche gli errori commessi si stanno lì ti vuoi anche vergognare però sono passati l'importante come dice lei è vivere il presente ma è importante anche staccarsi dal passato cioè una persona oggi è oggi e sarà il domani il passato è stato è vero spesso si dice noi oggi siamo quello che abbiamo vissuto certo però ok è stato è un percorso cioè noi alle spalle ci lasciamo un percorso ma noi come persone come esseri senzienti siamo l'oggi e potremo essere il domani è giusto staccarsi dal passato allora io non dico totalmente ripeto però rimanere ancorare al passato ti porti di ora anche delle zavorre non ti lasciano navigare sicuramente oggi sicuramente noi siamo gli unici animali sulla faccia della terra animali intelligenti che possono vivere passato presente e futuro contemporaneamente noi siamo storia vivente la persona è una storia vivente è vero certo che restano i ricordi ma il passato è la nostra memoria storica e i nostri elementi preziosi spesso stanno nel passato e pur se non vuoi tornare indietro nel passato ed è giusto andare avanti l'ho detto prima devi vivere il presente dobbiamo assolutamente essere pronti a vivere il presente e anche quella è una competenza un esercizio continuo magari riuscissimo a farlo tutti e o farlo tutti i giorni ma il passato ci si può staccare dal passato quando il passato lo si è elaborato un passato non elaborato soprattutto fatto di sofferenza perché di quello che stiamo parlando certo un passato non elaborato vive con te vive in te torna continuamente a galla e soprattutto a volte come ha detto lei prima in situazioni per esempio dove noi potremmo addirittura lasciarsi andare pensi quanto è paradossale davanti all'amore lei ha detto a volte il dolore è ancora più Freud ne ha parlato tantissimo di questo anche perché le prime pazienti di Freud erano molte donne che erano frustrate proprio nel rapporto d'amore sentimentale erotico sessuale col proprio partner e che quindi vivevano una sorta di incomprensione affettiva no e questo portava poi guarda caso anche delle somatizzazioni quindi dei disturbi anche fisici perché però nell'amore finisco questo concetto perché l'amore nell'amore quando è vero quando c'è l'innamoramento quando c'è il coinvolgimento la seduzione il fatto che l'altro mi fa stare bene e dove io mi sento migliore sempre di più in quel momento io mi sto permettendo infatti ne abbiamo molta paura dell'amore no l'amore fa molta paura io mi sento in quel momento di poter abbassare le difese perché comincio ad avere fiducia di te comincio non soltanto a stimarti a pensarti ma a sentirti dentro e quindi in quel momento io mi sto praticamente sto abbassando le difese e in quel momento quando abbasso le difese Pierluca tutto quello che viene fuori viene fuori perché non l'ho elaborato e allora guarda caso davanti a un rapporto d'amore dove ci credo davvero vengono fuori le mie difficoltà i miei ostacoli e però rischi poi di rovinare e rischi di rovinare il rapporto per questo è meglio elaborarle prima certe cose perché non il cervello non termina l'elaborazione oppure impiega tanti anni allora l'epistemologia di questo secolo ha dichiaratamente detto che la famosa velta schaung cioè il dominio della coscienza del secolo dei secoli passati non è più una chiave di lettura valida perché la realtà è molto complessa si è capito che il cervello è in progress guarda caso è in divenire molte parti del nostro cervello a livello di funzioni non sono conosciute quindi vuol dire che il nostro cervello ancora è in divenire che significa che non esiste non esistiamo fuori dai contesti culturali fuori dai cambiamenti fuori dalle relazioni noi esistiamo lo diceva Vigoschi Luria Leontiaf i grandi psicofisiologi russi esistiamo perché in qualche modo stiamo nel mondo e nel mondo continuiamo ad apprendere learning from experience no l'apprendimento dall'esperienza e questo dura dalla culla alla tomba allora abbiamo gli ultimi cinque minuti non abbiamo detto che il libro è edito fuori linea sì la casa editrice fuori linea sì esattamente prefazione di marco testi post fazione di rosario di sauro direttore della scuola di specializzazione del ceripa di latina che ringrazio tantissimo per aver scoperto all'interno del libro delle perle inaspettate e quindi sono amici con cui lavoriamo da decenni insieme ed è bellissimo ed è bellissimo averli come compagni di viaggio il libro lo potete trovare chiaramente sul sito di fuorilinea.it e in libreria certo su rietinvedrina.it trovate un un bell'articolo con il link diretto appunto al sito della casa editrice le ultime due domande sono una legata a itaca che viene riportata all'interno del sì del volume la seconda compro il libro lo leggo quindi dalla prima parola all'ultima io attraverso un viaggio certo una prima parte più tecnica perché abbiamo bisogno anche degli strumenti per andare poi ad affrontare la parte più discorsiva quindi da parte del libro certo compro il libro lo leggo cosa devo avere in me al termine della lettura cosa devo trovare in me? Pierluca sa benissimo che dopo la lettura di un libro ognuno poi tira fuori espressioni sentimenti riflessioni personali che che vanno sicuramente si spera in ogni lettura io l'ho fatto questo anche nei libri che alla fine poi non mi sono piaciuti cioè mi ricordo che c'è un decalogo di daniel pennac su cosa si cosa bisogna fare con un libro e si rivolge ai bambini e io dico che ogni tanto bisogna ritornare bambini a questo punto di vista nel penac dice una cosa molto bella che un libro si può prendere lasciare da parte cominciare a leggere non finirlo di leggere addirittura leggerlo dall'inizio e poi andare alla fine non seguire un percorso leggerlo per strada leggerlo in casa leggerlo quando si sta in riva al mare eccetera nel senso che il libro va usato secondo me no va apprezzato va rispettato va sicuramente però va usato è uno strumento uno strumento del pensiero io direi che è molto importante che diventi uno strumento emotivo anche cioè le cose che sono scritte in questo testo e penso che faccia parte di tutta la cultura libraria poi questo aspetto no e in particolare della letteratura per esempio c'è un libro va sentito va percepito nell'intimo nel profondo se questo avviene alla fine di questo testo io sono veramente felice anzi se le persone che lo leggono mi mandano delle dei commenti delle recensioni delle osservazioni delle critiche perché no io sono veramente contento vuol dire che siamo arrivati a un punto di contatto e questo è importante itaca poi siamo deciso anche di leggere degli delle righe e purtroppo noi chiacchieriamo tanto e quindi siamo andati lunghi però vorrei in attesa risposta su itaca leggervi queste due righe sono proprio due a pagina 137 il titolo del paragrafo è crisi di fede crisi esistenziale nella relazione di aiuto ci ricolleghiamo a quanto detto prima per quanto riguarda la religione certo e la domanda il paragrafo inizia con la domanda e se anche la mia fede di credente andasse in crisi davanti alle difficoltà della vita e se fosse una crisi esistenziale più che una crisi di fede quali le differenze questa è una domanda che mi avrebbe un seminario di studio dove mi inviterà a fare un seminario di tre ore su questo argomento si si apre un mondo si si apre un mondo chiaramente io ci vogliamo altre domande no molte domande molte domande ma probabilmente il metodo che continuiamo ad usare anche in psicanalisi andare avanti per domande no c'è il metodo filosofico si fa domande su domande poi che aprono altre domande perché perché la cosa importante qual è non darsi sempre tutte le risposte subito ma farsi le domande giuste cioè se io non mi faccio la domanda giusta e questo prevede richiede una ricerca incessante di verità e di autenticità dentro di me se io mi faccio le domande giuste difficilmente mi darò delle risposte spesso io dico che il nostro storytelling cioè come ci raccontiamo la nostra storia che è molto importante in psicanalisi io quando ascolto le persone con cui lavoro le ascolto fino in fondo perché voglio sapere che cosa pensano della loro vita qual è la storia che si raccontano come se la stanno raccontando come la raccontano agli altri e spesso noi ci accorgiamo che ce la cantiamo e ce la sogniamo si dice no cioè nel senso che chiaramente io me la me la racconto come meglio per me un po come fanno i bambini non suonarci la stonata assolutamente sì ma spesso lo facciamo in maniera stonata perché la realtà è un'interpretazione io sto interpretando la realtà per stare bene in questo mondo ognuno di noi deve interpretare la realtà e si deve porre nei confronti della realtà in modo adeguato per non sentirsi fuori dal branco fuori dalla comune no la casa comune ha bisogna di tra virgolette di una libertà che finisce dove comincia la tua e quindi c'è poco da fare la civiltà la civilizzazione la chiamava freud quando ha scritto ha scritto il famoso libro il disagio della civiltà ci mette davanti a dei temi fondanti che riguardano proprio il vivere civile il vivere insieme cioè psicoanalisi in questo senso è molto sociale a differenza di quanto può sembrare però parte dall'individuo questa è un po la differenza con altre forme di psicoterapia chiudiamo con itaca itaca è una poesia che mi che mi rappresenta perché in qualche modo io sono legato al viaggio non mi ricordo più dove la pagina l'abbiamo trovata e l'idea è che la vita un viaggio e quindi più a volte che pensare alla meta bisogna pensare al viaggio bisogna fare bene il viaggio perché altrimenti il fatto di arrivare sempre in un mondo dove siamo abituati ad arrivare all'obiettivo essere efficienti tra raggiungere traguardi stare sul pezzo ci prendiamo a volte prendiamo poco tempo per noi stessi e il tempo per noi stessi è un tempo dedicato a pensare ma dove sto andando che sto facendo perché non mi fermo un attimo a pensare quindi quando qualcuno me lo fa fare divento matto non so più non so più da che parte no perché sento come dire l'amplificazione della mia solitudine no per una solitudine esistenziale una solitudine importante perché ti mette a confronto con le parti più vere di te più vere di te e itaca un po è questo allora io la prego quando ti metterai in viaggio per itaca devi augurarti che la strada sia lunga fertile in avventure e in esperienze sempre devi avere in mente itaca raggiungerla sia il pensiero costante soprattutto non affrettare il viaggio fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da itaca itaca ti ha dato il bel viaggio senza di lei mai ti saresti messo in viaggio cos'altro t'aspetti e se la trovi povera non per questo itaca ti avrà deluso fatto ormai sabio con tutta la tua esperienza addosso già tu avrai capito ciò che itaca vuole significare costantinos cavafis ok allora qui non abbiamo più tempo perché io avrei altre domande ma chiuderei così con la promessa di rincontrarci volentieri sempre su radio mondo riedi in vetrina e anche sul canale 176 delle digitali terrestre vi ricordo ancora abbiamo terminato davvero il tempo la crepa tra le pieghe dell'esistere del professor massimo scialpi edito fuori linea ve lo mostro ancora una volta lo potete trovare sul sito della casa editrice nelle librerie nelle librerie e poi chiaramente su radio in vetrina punto it c'è un articolo con il link diretto alla casa editrice vi vi invito a leggerlo perché secondo me vi arricchirà personalmente quindi moralmente vi darà molte idee sulle quali ragionare potrete anche trovare secondo me a mio avviso diverse parti voi stessi perché in fondo anche chi non lo ammette ma secondo me tutti i giorni pensa a determinate cose siano esse belle o non belle detto questo strappo la promessa di rivederci con il professor scialpi che ringrazio per essere stato qui ringrazio chi ci ha seguito ad a tu per tu l'appuntamento come sempre alle nostre prossime interviste grazie grazie per luca a tu per tu per parlare di attualità politica curiosità e sport a tu per tu per saperne di più a tu per tu perpitale a tu per writingllo a tu per tu per saperne diells a tu per tu che